Inviterei la dottoressa Cazzaniga di Italfarmaco a presentarci aggiornamenti e prospettive di Givino Stato. Innanzitutto vorrei ringraziare la professoressa Politano e la Wilma per averci invitato qui, soprattutto per poter condividere con voi i dati del nostro farmaco Givino Stato, che come vedremo al momento è in studio per la distrofia muscolare di Duchenne, ma ci sono comunque delle buone prospettive anche per altre patologie. Givino Stato è un potente inibitore dell'istone di acetilasi. L'istone di acetilasi è un enzima importantissimo che serve per permettere la lettura o bloccare la lettura del DNA e quindi conseguentemente permette la produzione di nuove proteine. È in sviluppo in diverse indicazioni, quindi non solo nella malattia muscolare di Duchenne, ma anche in altre patologie. Fino ad oggi sono stati già trattati 500 pazienti, quindi un buon numero di pazienti. Naturalmente per quanto riguarda la distrofia muscolare di Duchenne, come vedremo dopo, solamente 20 bambini sono stati trattati fino ad oggi. Sono state utilizzate delle dosi fino a 600 mg al giorno, un dato importante perché poi vedremo che nella distrofia muscolare di Duchenne invece si utilizzano delle concentrazioni molto più basse, delle dosi molto più basse. Abbiamo dei trattamenti fino a due anni di terapia, quindi anche qui molto importante perché come voi sapete nelle malattie degenerative e neuromuscolari il trattamento è un trattamento continuo e quindi è importante sapere la sicurezza del farmaco per una somministrazione a lungo termine. E per quanto riguarda la nostra esperienza nei bambini, sono stati già trattati 31 bambini con artrite giovanile e come vi ho detto prima 20 bambini nella distrofia muscolare di Duchenne. Tutto questo per dirvi cosa? Che abbiamo già un'indicazione su come è tollerato il farmaco. Il farmaco è ben tollerato, esistono degli effetti collaterali come sapete per tutti i farmaci, tra cui voglio sottolinearvi questi che sono quelli più evidenti, che sono la riduzione delle piastrine. È un effetto che di solito avviene nelle prime settimane di trattamento, è un effetto che è reversibile, per cui nel momento in cui si toglie il farmaco, si diminuisce la dose, le piastrine ritornano ai valori normali e è un effetto quindi transitorio. E poi vedremo che basta modulare quindi la terapia per far sì che questo effetto non si presenti e quindi non si presenti neanche nei bambini con la distrofia muscolare di Duchenne. Abbiamo poi degli effetti gastrointensinali, nausea, vomito e diarrea. Di solito sono effetti transitori, sono effetti che avvengono soprattutto nei primi mesi di trattamento e poi scompaiono. Passiamo quindi alla distrofia muscolare di Duchenne. Perché siamo arrivati a cominciare uno studio clinico sulla distrofia muscolare di Duchenne? Perché prima abbiamo, in collaborazione con il professor Puri, con il laboratorio del professor Puri di Roma e anche lui ha un laboratorio negli Stati Uniti, abbiamo testato il farmaco in un modello animale. Il topo MDX è un topo che mima, diciamo, le caratteristiche della distrofia muscolare di Duchenne, quindi le caratteristiche cliniche dei bambini con questa patologia. E trattando questo animale che cosa si è visto? Si è visto a livello istologico una importante riduzione dell'infiammazione, un'importante riduzione della fibrose, un aumento delle fibre muscolari e un miglioramento funzionale. Questo miglioramento funzionale si è visto utilizzando il test del tapirulan. Si fanno correre i topolini sul tapirulan e si va a vedere come se migliora o se rimangono stabili dopo essere stati prima e dopo essere stati trattati con il farmaco. Quindi, diciamo, avevamo una prova del concetto nell'animale che potenzialmente potesse essere utile anche nei bambini. Detto questo, però, vorrei un attimo cercare, in poche parole, di spiegare perché pensiamo che sia favorevole l'utilizzo di Givinostat in questa patologia. E la dottoressa Pini vi ha spiegato benissimo prima tutta la fisiopatogenesi della Duchenne. Io cerco, in poche parole, invece, di farla ancora più semplice. Come voi sapete, la mutazione del genere della distrofina porta nei bambini Duchenne a non avere la distrofina. La distrofina, come diceva prima la dottoressa Pini, è determinante nel muscolo perché lega la parte contrattile alla membrana. Quindi si può dire, facendo un paragone con una macchina, che è un ammortizzatore. Per cui il fatto che queste fibre scorrano hanno bisogno comunque di un aggancio con la membrana. Se non c'è l'aggancio con la membrana può succedere che queste fibre si rompano. E quindi è questo il danno, il danno muscolare. Il danno muscolare, nei primi anni di vita, è un danno muscolare acuto che porta ad un'infiammazione acuta. Questa infiammazione acuta è positiva per il muscolo perché va a stimolare tutta una serie di geni che porta alla rigenerazione muscolare. E quindi qui vi mostro un vetrino estologico di un muscolo dove vedete queste sono tutte le fibre. Quindi qui siamo ancora in una situazione iniziale, in una situazione in cui, come diceva la dottoressa Pini, non abbiamo una mancanza di funzionalità. I bambini sono ancora forti. Il problema però della mancanza della distrofina è che la distrofina non si produce nuovamente perché abbiamo questo difetto genetico. e quindi il danno diventa un danno cronico e il danno cronico porta ad un'infiammazione cronica ed è qui il problema perché l'infiammazione cronica non porta ad una rigenerazione. Certo, in parte esiste ancora la rigenerazione muscolare ma non è più sufficiente. Quindi cosa succede? Che queste fibre danneggiate vengono eliminate e vengono sostituite con il grasso e con la fibrosi. Come potete vedere qua, guardate la differenza, vedete che qui vediamo che c'è comunque del tessuto che non è più un tessuto, come faceva prima a vedere la dottoressa, non è più un tessuto contrattile ed è qui che quindi perde la funzionalità. Quindi il nostro Givinostat, che cosa può fare in tutto questo? Il nostro Givinostat agisce a questo livello, cioè va a stimolare la rigenerazione muscolare. Quindi si pensa che possa riportarci in questa situazione. Detto questo, qui è un attimo il riassunto di quello che vi ho detto fino adesso. Quindi il fatto che non c'è la distrofina determina un'infiammazione importante con degenerazione e rigenerazione. Quando questo non è più bilanciato abbiamo quindi l'aumento di grasso e di fibrosi. Cosa può fare il Givinostat? Quindi questo potente H-DAC che cosa può fare? Non va assolutamente, questo è importante dirlo, a determinare la produzione di nuova distrofina. Per cui non va a curare il difetto genetico. Quello che può fare è agire a fenomeni a valle del difetto genetico. Quindi quello che può fare, e che abbiamo visto che fa nel topo e poi vi farò vedere che cosa è successo invece nei bambini, determina la rigenerazione di nuove fribere. Quindi questo cosa può comportare? Può comportare semplicemente, però naturalmente un gol molto importante, un rallentamento della progressione della malattia. Però vi voglio sottolineare, non è un farmaco che va a modificare il danno genetico. Come altri farmaci, che come prima faceva vedere la dottoressa, sono in questo momento in sperimentazione. Quindi, visto il dato positivo sul topo, abbiamo deciso di cominciare uno studio nei bambini Duchenne. Quali erano gli obiettivi di questo studio? Vedere se effettivamente quei risultati che avevamo ottenuto a livello istologico nel topo fossero anche traslati in clinica, quindi nei bambini. Oltretutto, volevamo vedere se c'era anche un beneficio funzionale. Quindi se a conseguenza dell'ammiglioramento del muscolo ci fossero anche dei miglioramenti funzionali. E infine sono stati anche visti ulteriori, si chiamano effetti, sono esplorati nuovi effetti, tra cui la risonanza magnetica muscolare, che uno poi, vedremo degli end point, che si sta utilizzando molto negli studi clinici nei bambini Duchenne. Detto questo, lo studio. Lo studio ha coinvolto 20 bambini dall'età di 7-10 anni, bambini deambulanti, bambini che richiedevano come criterio di inclusione la stabilità della terapia steroidea per almeno 6 mesi, bambini che avevano un test, il 6-minute walk test, che è il famoso test del cammino di 6 minuti, almeno un basale di 250 metri. E lo studio era diviso in due parti, una prima parte, una seconda parte, poi una fase di estensione. La prima parte era semplicemente una parte che serviva a noi per valutare la dose adeguata da seguire poi nella seconda parte dello studio. I bambini venivano sottoposti ad una biopsia muscolare all'inizio dello studio e dopo, al termine della seconda parte, quindi dopo almeno un anno di trattamento, perché alcuni sono entrati solo nella seconda parte dello studio, altri che sono entrati già a maggio 2013, per cui per più di 14 mesi di trattamento. E una fase di estensione, inizialmente l'anno scorso, a luglio, quando abbiamo ricevuto tutte le biopsie, abbiamo chiesto, proprio per una questione etica, per permettere ai bambini di continuare il trattamento, ai comitati etici di estendere lo studio, quindi di permettergli il trattamento. Ad oggi, visti i risultati, che poi vi mostrerò a breve, positivi, i bambini continueranno ancora, a luglio 2015 doveva finire il trattamento, abbiamo ricevuto l'ok sia da parte di AIFA che da parte dei comitati etici, per cui i bambini continueranno a essere trattati per almeno ancora un anno. Passiamo qui adesso a vedere un attimo i dati basali di demografia. Questa diapositiva mi serve semplicemente per dirvi due cose. Uno, i bambini comunque avevano ancora conservato una buona capacità muscolare, perché percorrevano una media di 458 metri al test del cammino, e abbiamo inserito bambini che avevano mutazioni diverse. Quindi questo perché lo sottolineo? Perché non essendo una terapia genetica, tutti i bambini possono essere trattati. Quindi, ecco, abbiamo inserito, abbiamo dato la possibilità di inserire bambini con mutazioni diverse. Nella prima parte, come vi dicevo, era una parte che serviva a noi semplicemente per definire la dose adeguata per trattare i bambini. I bambini hanno cominciato 25 milligrammi due volte al giorno. Il farmaco è in due formulazioni, in capsule, ma in questo caso per i bambini è stata utilizzata una sospensione, per cui come se fosse uno sciroppo. 25 milligrammi due volte al giorno, per cui anche, diciamo, la somministrazione è abbastanza agevole, perché veniva dato la mattina dopo la colazione e alla sera dopo la cena. Gli eventi avversi che si sono verificati in questa prima parte erano effettivamente quelli che già avevamo visto, per cui gli eventi gastrointestinali e poi la riduzione di piastrine, che è stata determinante, perché è stato, diciamo, il nostro limite per decidere quale dose i bambini dovevano essere trattati. La dose a 25 milligrammi due volte al giorno è stata ben tollerata, e la dose a 50 è stata bloccata perché c'è stata questa diminuzione importante di piastrine. I bambini, una volta che hanno, diciamo, sospeso il farmaco, nel giro di pochissimi giorni sono ritornati ad avere dei valori di piastrine normali e quindi poi hanno continuato il trattamento a 37,5 milligrammi due volte al giorno. Quindi, vista questa prima parte, si è deciso di continuare la seconda parte dello studio, quindi il trattamento per un anno, ad una dose naturalmente che fosse una dose tollerata per i bambini, quindi a 37,5 milligrammi due volte al giorno. Nella seconda parte dello studio sono entrati solamente 19 bambini anziché 20. Un bimbo per problemi non ha potuto continuare lo studio. I bambini attualmente sono tutti nella fase di estensione, per cui stanno terminando il secondo anno di trattamento a luglio di quest'anno e poi continueranno anche nell'altra fase di estensione. sette bambini sono ancora a 37,5 milligrammi, 12 bambini hanno dovuto ridurre la dose a 25 milligrammi, perché? Perché avevamo inserito un nuovo margine di sicurezza, cioè i bambini in cui le piastrine tendevano a scendere verso il basso, quindi questo 150.000 è il limite basso normale che i bambini devono avere le piastrine, dovevano ridurre la dosi. in questo modo era più semplice sia per i genitori che per i medici poter trattare questi bambini ed essere sicuri che il farmaco non desse nessun effetto collaterale sulle piastrine. E anche qui abbiamo avuto dei lievi eventi gastrointestinali, soprattutto diciamo che l'evento che può succedere è la diarrea, ma che in genere non viene trattata con nessun farmaco ed è una diarrea lieve. Passo adesso posso mostrarvi i dati che abbiamo analizzato sulle biopsie muscolari. Spendo un pochino di minuti per un attimo spiegarvi questa diapositiva perché capisco che è abbastanza difficile. Prima di tutto cambiamenti in percentuale dei parametri istologici. Cosa significa? Che sono state fatte le analisi delle biopsie alla fine dello studio, quindi dopo che i bambini sono stati in trattamento per almeno un anno, verso i dati basali cioè della biopsia prima di iniziare lo studio ed è stato fatto una percentuale di cambiamento. Ogni barrettina è il bambino che è stato valutato, la barrettina nera in fondo è la percentuale, la media di tutti i bambini. Questi parametri cosa sono? L'ENFAF non è altro che la percentuale di fibre muscolari che occupa un vetrino, per cui il vostro pezzettino muscolare è stato prelevato dal muscolo, è stato tagliato a fettine molto sottili e inserito su alcuni vetrini. Quindi per ogni fettina si andava a vedere qual era la percentuale di questa fettina quindi di muscolo che era occupata da fibre muscolari. Naturalmente gli altri parametri importanti quali sono la fibrosi cioè tessuto connettivo che non ha più la capacità contrattile, la necrosi cioè cellule che stanno morendo e quindi verranno sostituite, e la sostituzione adiposa cioè il grasso quindi cellule che sono già state fibre che sono già state sostituiti con il grasso. E come potete vedere i risultati sono molto positivi nel senso che per quanto riguarda la parte muscolare abbiamo un aumento della frazione muscolare all'interno dei vetrini con una importante diminuzione della fibrosi, un'importante diminuzione della necrosi tranne per un bambino e un'importante diminuzione della sostituzione adiposa. Quindi quello che ci aspettavamo che avevamo visto nei topi l'abbiamo visto anche nei bambini duchenne. Ma questo non basta perché sapere che il muscolo sta meglio sicuramente aiuta noi clinici aiuta i medici ma non basta perché deve aiutare il bambino anche dal punto di vista funzionale. Quindi che cosa è successo a livello funzionale? Scusate un'altra caratteristica importante perché poi mi serve per dopo il fatto che abbiamo visto questo aumento delle fibre muscolari si è riscontrato soprattutto dal fatto che le fibre sono aumentate di diametro quindi questo è un fatto molto importante quindi si sono inciccite diciamo le fibre sono aumentate di diametro è importante per i clinici sapere che è vero tutte le fibre sia quelle piccole quelle medie che quelle che erano già diciamo nel diametro normale sono aumentate ma non sono diventate delle fibre ipercontratte cosa sono le fibre ipercontratte? Sono delle fibre molto grandi che non sono più funzionali sono delle fibre che stanno per andare in necrosi ecco queste invece non si sono verificate ma addirittura se noi andiamo a vedere quest'altra tabella vediamo che c'è stata una diminuzione di queste fibre del ben 60% per cui si sono ridotte ritorno adesso a parlarvi della parte funzionale il 6-minute walk test il test del cammino dei 6 minuti qui ci sono plottati tutti i bambini e come potete vedere fondamentalmente il 6-minute walk test non è variato per cui possiamo dire che c'è stata una stabilità all'interno dei 14 mesi di trattamento ci sono certamente delle fluttuazioni ma sapete che è un test molto sensibile per cui dipende anche dall'attività che viene fatta il giorno prima del bambino quindi in questo caso ad esempio era un bimbo che era andato in gita il giorno prima per cui ci sono dei dati che bisogna sempre valutarli con molta attenzione però quello che possiamo dire in generale nella media che i bambini hanno mantenuto una certa stabilità non è stato fatto semplicemente il test funzionale del cammino ma sono stati fatti altri test naturalmente per completare l'analisi funzionale tra cui la Nostar Ambulatory Assessment che è un altro test che va a valutare aspetti funzionali la Pool che è un altro test che va a valutare la funzionalità degli arti superiori e poi ad esempio anche il tempo necessario per alzarsi da terra il tempo vi percorre 10 metri insomma ce ne sono stati altri e tutti hanno mostrato una certa una stabilità nel tempo anche i test di funzionalità respiratoria la famosa spirometria anche qui abbiamo visto una stabilità per cui il tutto sta a indicare che anche a livello funzionale abbiamo avuto una stabilità abbiamo fatto un ulteriore passo perché abbiamo dovuto fare delle analisi addizionali perché questo perché l'effetto naturalmente questi bambini sono in una fase di crescita quindi la domanda naturalmente che ci siamo posti è stata ma questo effetto che abbiamo visto di miglioramento del muscolo è dovuto semplicemente dalla crescita del bambino o è dovuto dal nostro farmaco e oltretutto questi bambini sono in terapia con steroidi quindi la seconda domanda è ma l'effetto è un effetto Givinostat o un effetto steroidi e quindi abbiamo fatto delle correlazioni quindi sono delle analisi statistiche che vengono fatte e quello che vi posso dire è che né l'età e né la durata degli steroidi correla con questi risultati per cui possiamo dire che l'effetto può essere puramente ascrivibile a Givinostat in più un altro dato importante abbiamo fatto delle correlazioni con il dato funzionale il dato istologico e quello che abbiamo visto è che c'è una correlazione ad esempio vi faccio un esempio il bimbo che ha una maggior percentuale di fibrosi all'inizio della quinta al basale è un bambino che cammina di meno quindi effettivamente c'è una forte correlazione in conclusione che cosa possiamo dire di questo studio per poi passare alle altre patologie Givinostat con questo studio ha dimostrato che è ben tollerato alla dose che deve essere naturalmente modulata in base all'età del bambino e soprattutto al peso del bambino ed è tollerato dai bambini di 7-10 anni adesso posso dire dai bambini da 7-12 anni perché questi bambini sono già in trattamento da 2 anni le analisi stologiche hanno dimostrato quello che avevamo visto effettivamente nel topo cioè c'è un aumento della rigenerazione muscolare un aumento del diametro delle fibre muscolari una diminuzione di cellule necrotiche di cellule adipose e di fibrosi i test funzionali hanno mostrato una certa stabilità ma attenzione voglio un attimo soffermarmi su questa cosa perché stiamo parlando di 20 bambini 20 bambini è solo un segnale per cui non possiamo ad oggi dire che con questi 20 bambini abbiamo già trovato l'efficacia di questo farmaco dobbiamo mettere in piedi lo stiamo facendo e vi spiegherò poi dopo un altro studio in cui si va a valutare l'aspetto funzionale in un numero in un campione si dice in un numero più elevato di bambini come vi ho detto prima gli effetti istologici non possono essere spiegati con la variazione dell'età con la durata degli steroidi quindi quello che possiamo dire ed è importante che GV non sta terghiesce a prevenire degli eventi istologici nella distrofia muscolare di Duchenne e questo suggerisce che questo miglioramento muscolare può essere anche tradotto in un beneficio funzionale quindi in un rallentamento della patologia quali sono i prossimi passi in Duchenne questi bambini sono ancora in trattamento ma vi ho detto che non bastano stiamo disegnando uno studio uno studio clinico che ci porterà quindi poi se lo studio sarà positivo a rendere disponibile il farmaco per tutti i bambini Duchenne per tutta la Duchenne parlo di bambini ma in generale per tutta la Duchenne ma per fare ciò dobbiamo parlare con le autorità regolatorie per cui l'Agenzia Europea del Farmaco in Europa e la Food and Drug Administration che è l'agenzia diciamo americana che si occupa dei farmaci sperimentali questo avverrà giusto per darvi delle tempistiche a luglio abbiamo già un programma con loro a luglio per cui da settembre cominceremo a contattare i centri per poter e ci saranno centri anche italiani per poter implementare lo studio lo studio che prevede diciamo un inizio alla fine di quest'anno e qui mi concludo con la Duchenne ma quindi la domanda naturalmente viene spontanea ma questo farmaco può essere anche utilizzato per altre patologie neuromuscolari risottolineo GVNOSTAT non corregge il difetto genetico GVNOSTAT agisce a livello muscolare dove stimola la rigenerazione muscolare abbiamo anche dei dati molto recenti che sono arrivati settimana scorsa dove abbiamo un aumento delle cellule satelliti le cellule satelliti sono delle cellule quiescenti che rimangono nel muscolo e nel momento in cui vengono stimolate ad esempio per un danno cosa fanno fanno nascere nuove fibre muscolari quindi abbiamo anche questo dato che è un dato nuovissimo aumenta il diametro delle fibre muscolari diminuisce la sostituzione adiposa e anche questa una cosa che non vi ho detto e stiamo ancora valutando questo effetto perché i dati diciamo sui vetrini istologici non sono ancora arrivati givinosat però come vi ho detto all'inizio ha un effetto anche antinfiammatorio perché era stato utilizzato anche nell'attrite reumatica giovanile per cui ha un effetto antinfiammatorio conosciuto e quindi dobbiamo tener conto di tutta questa sua di tutte queste sue attività per poter scegliere la prossima patologia scegliere la patologia neuromuscolare in cui impiegarlo qui vi faccio vedere l'esempio di una biopsia di un bimbo che è attualmente in trattamento il basale e la biopsia dopo un anno quindi detto questo tante parolone per dire che cosa ricordiamoci givinosat agisce a livello a valle del difetto genetico non è una malattia che va a modificare la mutazione genetica stiamo valutando quali malattie neuromuscolari possano presentare un meccanismo fisiopatologico simile a Duchenne quindi possano beneficiare del nostro farmaco per naturalmente definire quali sono i possibili target naturalmente sono le malattie in cui abbiamo una perdita della massa muscolare abbiamo un diametro delle fibre muscolari già conosciuto essere minore rispetto al controllo sano e abbiamo un muscolo in cui si infarcisce di grasso e di fibrosi tutto questo non lo stiamo facendo da soli noi siamo pochissimi tal farmaco è una società italiana ed è molto piccola ci occupiamo di questa parte sperimentale siamo in 20 quindi siamo veramente pochi stiamo contattando i vari esperti delle patologie per poter collaborare con loro per poter riuscire a definire quali sono le patologie su cui impiegare Givinnostat quindi per dirvi che c'è molto lavoro da fare stiamo identificando i target quindi le malattie target dobbiamo definire e condurre degli studi anche sui modelli animali che mimano naturalmente la situazione nell'uomo sappiamo che non ci sono modelli animali per tutte le patologie neuromuscolari dobbiamo poi definire quale sarà il disegno dello studio per queste patologie e discuterlo ancora con l'autorità regolatoria e qui è un processo che anche se si cerca di accelerare a volte ci blocca un pochino e poi cominciare lo studio clinico tutto questo purtroppo io in questo momento non vi posso dare delle tempistiche posso prendermi la briga di dire che entro fine anno vi daremo comunque delle notizie su questa parte finisco ringraziando ringraziando prima di tutto le famiglie e i bambini perché io capisco che è veramente difficile seguire uno studio clinico dove ci sono molte visite ci sono molti controlli i bambini si stancano quindi capisco anche tutto diciamo i pensieri delle mamme e dei papà dietro a questo naturalmente tutte le persone che hanno collaborato che stanno collaborando tuttora con noi per per la buona riuscita dello studio naturalmente i centri clinici la dottoressa Petrini che si sta occupando e si è occupata dell'analisi istologica del bambino Gesù di Roma tutta una serie di altri personaggi tra cui anche parent project importantissimo per noi perché ci sta aiutando dal punto di vista psicologico da un aiuto alle famiglie proprio dal punto di vista psicologico quindi è stato un partner con noi veramente è stata una collaborazione importante e pensiamo proprio che la necessità che ci sia tra casa farmaceutica e associazioni proprio per rendere più semplice la vita a voi per rendere più semplice la vita a noi e niente e anche Teleton che Anna oggi non c'è ma anche Teleton perché ci ha sostenuto moltissimo grazie ringraziamo la dottoressa Casaniga per la sintesi e l'efficacia della comunicazione e devo dire molto chiara e con un linguaggio che se mi fossi messo dall'altra parte avrei capito spero che voi tutti abbiate capito questo diciamo è un dono non di Italfarm ma come un dono della dottoressa Casaniga secondo me perché prima ero un infermiere quindi può essere va bene abbiamo un po' di tempo per la discussione prima però volevo darvi una comunicazione di servizio Matteo Falvo ci comunica che alle 15 aprono nella hall le registrazioni della commissione verifica poteri e siete tutti invitati a registrarvi ero in debito con lui di una domanda ti ho interrotto adesso è il momento giusto per farla c'è il microfono domande sintetiche risposte sintetiche il riferimento al documento sanitario personalizzato io credo che quel prospettino che ha fatto Balfi mi sembra dire solo sì che è il contrario avere redatto e portarsi dietro un documento però questo è limitativo perché se si riferisce soltanto a noi io lo proporrei a tutti i cittadini italiani che chiunque si reca cioè chiunque va in giro e ha bisogno di qualche cosa di andare lì a un pronto soccorso e portare il suo documento personalizzato e quindi direi che propongo all'assemblea di presentare magari al ministero della sanità una proposta di astendere da tutti i cittadini italiani cioè noi in Toscana è già stata attivata la tesserina sanitaria che vabbè non so però in tanti posti non funziona credo comunque ecco faccio e poi anche un altro un altro discorso su quella ricerca di di che è stato cioè quel lavoro che è stato fatto dal 2011 al 2013 sulle famiglie questo mi rivolgo a lei io credo che non lo so io sono un po' un provocatore in questa circostanza quindi accettatemi sono tutte cose che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle che abbiamo fatto alle quali noi avremmo avuto bisogno di una risposta o abbiamo bisogno chi è sempre in essere con la gestione familiare e compagnia bella delle risposte a quelle problematiche quindi praticamente avete fatto un censimento di quello che noi abbiamo fatto e ce lo venite a dire ma noi quelle cose le conosciamo le abbiamo fatte le abbiamo vissute abbiamo sofferto avevamo bisogno delle risposte e ci venite a dire con un progetto finanziato da Teleto quello che abbiamo fatto a me non mi interessa più io l'ho già fatto c'è chi lo che lo sta facendo ed è lo fa la grande cosa ci dite io vorrei qualcosa di più di più concreto questi studi che inventano l'acqua calda a me non mi dicono più niente purtroppo a bene pazienza grazie allora ci sono due domande una la prima per Paolo Banfi risposta sintetica Magliano risposta sintetica il documento sanitario nazionale c'è già per cui non ce ne può fregare meno di implorare il governo a farlo realizzare quello lì no il concetto il concetto è un altro questo è che il paziente neuromuscolare ha determinate esigenze che gli altri non hanno per cui il personalizzato è in questo senso e in questa direzione certo una domanda sensata soprattutto in questo contesto è vero pure che se le situazioni non si documentano in maniera anche quantizzata è difficile che vengano poi destinata delle risorse professionali delle risorse economiche non sulla singola famiglia ma in termini per esempio di ministero mirate per il soddisfacimento di quei bisogni che questo studio indubbiamente documenta in parte oggi avevamo mezz'ora non è che potessi portare qui tutti i dati quindi questa finestra piccola che abbiamo aperto è una finestra per cominciare invece un confronto su quanto le persone si ritrovano o meno in quella situazione riguardo a e giusto certamente sono cose che voi conoscete già e sono cose alle quali uno studio ha senso se dà delle risposte io parlo della mia esperienza perché diciamo questo stesso percorso che ho cominciato sulla distrofia l'ho fatto per 20 anni nel caso delle disturbi mentali dove pure le famiglie erano ben più esperte di noi e conoscevano i dati sul carico familiare però il documentare la situazione a livello nazionale nel caso dei disturbi mentali ha significato avere poi la possibilità di sviluppare davvero degli interventi di proporli in condizioni di routine di costruirli insieme con le famiglie e che quindi non fossero delle situazioni esterne in qualche modo proposte ma costruite assieme e misurare quanto questo alleviava il carico delle famiglie certo è più come dire è ragionevole aspettarsi da uno studio direttamente una risposta a un bisogno ma svincuando quel bisogno con tutti gli aspetti specifici per esempio la questione sulle dare un valore all'esperienza in termini positivi è una cosa che noi abbiamo trovato nel caso della distrofia ma che non c'è nel caso dei disturbi mentali dice perché questo è importante è perché un intervento efficace per ridurre il carico nelle distrofie si può basare su quegli aspetti che non erano documentati lo stesso tipo di aspetto positivo non ha un impatto forte in altri tipi di patologie e infatti non l'abbiamo utilizzato quindi diciamo ci vuole un po' di pazienza se non per poter modificare una situazione quella situazione la si deve descrivere la si deve quantizzare in termini di risorse che servono e poi si può progettare come modificare non lo si può fare to cure altre domande Franco se ti prendi il microfono un'informazione che conosciamo ambedue ma credo non è allargata al pubblico e agli altri della commissione medico-scientifica quando ci siamo visti appunto a settembre al convegno nazionale che abbiamo fatto la mattina mi ha parlato Filippo di una forma di distrofia dei cingoli la 1H che è nuova ed è stata individuata per la prima volta a mattina franca da una famiglia che poi l'ha allargata in altri paesi limitrofi come Locoratondo e Monopoli è stata finanziata da Teleton per poter verificare identificare bene dove è il difetto però i fondi Teleton sono finiti e il difetto non è stato completamente individuato Teleton non ha dato più fondi abbiamo visto anche da quanto diceva Luisa per Ambrosini che ha detto il 30% riusciamo a finanziare l'altro 60% no e allora la nostra sezione ha preso l'iniziativa di finanziare la ricerca all'Università di Bari questa ricerca abbiamo già avuto l'ok dal comitato di direzione della facoltà daremo 12.000 euro per terminare in 8-10 mesi il riconoscimento del difetto in collaborazione con San Giovanni Rotondo e della Mades questo è un'ottima iniziativa fondamentalmente l'azione locale su un progetto interviene permettendo di fare quel piccolo passetto in più dove la ricerca Teleton non è arrivata domande relative alle relazioni della mattinata avrei una per la dottoressa Cazzanica lei ha detto c'è un team di esperti che sta proponendo quale può essere il nuovo target e ci può dare qualche piccola anticipazione? no no segreto professionale no non è segreto professionale potremmo darle noi qualche piccolo suggerimento la professoressa Politano prima a parte il fatto penso che ovviamente noi della commissione medico-scientifica siamo a completa disposizione perfetto questo era quello che volevo sentirvi dire che possono essere le nostre esperienze perfetto e fra l'altro abbiamo anche qualche idea di quali patologie degli adulti potrebbero beneficiare prima degli altri per le caratteristiche cliniche di Givino quindi non ci dimentichi siamo assolutamente infatti sono anche qui perché volevo chiedere volevo chiedere la vostra disponibilità perfetto grazie un microfono per il professor Sicilia allora i risultati li abbiamo ma purtroppo abbiamo fatto un T1 non weighted quindi vabbè parlo un attimo in termini tecnici per cui non sono delle risonanze in cui si va a vedere si riescono a quantificare purtroppo sono risonanze qualitative quello che vediamo è che fondamentalmente varia molto da bambino a bambino e purtroppo la risonanza è stata fatta agli arti inferiori mentre le biopsie che io vi ho mostrato sono state fatte al bicipite per cui non sono dei dati che possiamo comparare nello studio che andremo a fare la risonanza copre un'importante parte degli end point che vogliamo porci ed è per questo che comunque dobbiamo discuterne sia con l'EMA che con FDA perché sappiamo che diciamo gli americani sono più aperti alla risonanza mentre le parti europee ancora non credono molto sulla risonanza quindi al momento non abbiamo dei dati diciamo che ci possono supportare per andare a stressare le autorità ci sono altre domande commenti va bene allora invitandovi nuovamente alle 15 a ritornare qui per la seconda parte della giornata e ricordandovi che dalle 15 nella hall riaprono le registrazioni della commissione verifica poteri vi saluto chiudo la sezione della mattina e vi auguro buon pranzo grazie a tutti